di ogni impresa guarda curioso come George dove e quando vuoi su Discovery Plus preparati alla magia dei Magic Bunnies di Pets Alive con la bacchetta lanci l'incantesimo e tiri fuori il coniglio dal cilindro concoriandoli a sorpresa le orecchie si illuminano per magia con la bacchetta e in più apriti sesamo mini coniglietti con magici poteri tre Magic Bunnies per fare ogni giorno una magia in più più di venti trucchi, luci, suoni e sorprese Magic Bunnies di Pets Alive da Zuru dolcetto scherzetto festeggiare insieme sarà da brividi speciale Halloween lunedì alle 7 di sera su Frisbee bentornati sul pianeta Sam cominciamo cominciamo dove tutti i giorni si va a spasso nello spazio sai come si chiama un cosmoeroe senza poteri? si chiama Cosmo Zero e si imparano cose cosmiche è stato super cosmico abbiamo finito? come di già arrivano tante nuove storie per i nostri amici speciali come te Sam Sam avventure cosmiche da martedì 5 novembre alle 6 di pomeriggio su Frisbee canale 44 sempre Halloween Toy Center sono tutti travestiti sai paura non partecipar Halloween Toy Center ti travolgerà giovedì 31 ottobre Halloween Party l'Halloween più spaventoso è solo da Toy Center quel leg drister è pazzesco con questo potrai sfidare Sonic in una corsa mozzafiato la tua passione ora da costruire scopri i nuovi set Lego Sonic The Edgehog questo Halloween ti diverti da paura con Squish Mellows sono spaventosi fuori ma super coccolosi dentro parti all'avventura con Squish Mellows in ogni Happy Meal dalla serie Hot Wheels Let's Race un cabra minaccia Hot Wheels City lancia le tue Hot Wheels e mettilo al tappeto la pizzeria è salva rivivi l'azione della serie Let's Race con Hot Wheels c'è un T-Rex a piede libero a Hot Wheels City colpito sconfiggi il T-Rex sognate di diventare grandi artisti? con Creart dipingi il tuo capolavoro seguendo numeri e colori lo incornici e il risultato è strepitoso Hot Wheels City e ora scopri anche la meravigliosa serie Junior Rosa muoviti ecco fatto gialla a destra verde vai avanti non posso sono bloccato non uscirò mai di qui Rush Hour usa l'ingegno e trova la strada per uscire dal traffico Rush Hour un divertimento infinito accendi la tua mente con ThinkFun tutti all'asino Cry Baby oh oh hai fame cambiamo il pannolino piangio ancora balli ciuccio e si calmeranno e Newborn stop time fanno versetti in acqua oh Cry Baby 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 Paws i nostri amici sono qui oh sembrano veri e sono tenerissimi e ora a nanna sogni d'oro cucciolo mio Baby Paws cosa c'è lì dentro è arrivato Pizzi Magicles prenditi cura di lui 20 nuovi cuccioli digitali che puoi toccare per davvero personaggi di fantasia trasformazioni wow e incantesimi Pizzi il tuo cucciolo digitale da Spin Master entra nella casa delle bambole a tema festa ciao Gabby ascensore in salita unisciti ai grandi parti sul tetto si balla e con i balconi e le stanze sarà una casa ancora più fantastica scopri la casa delle bambole di Gabby da Spin Master questo Natale fai il più magico dei regali prenota un pacchetto hotel più biglietti a 107 euro per persona a notte vai su disneylampari.com scopri un'esplosione di freschezza per te e le persone che ami con Vernel una freschezza che dura 24 ore su 24 7 giorni su 7 ovunque e in qualsiasi momento goditi un'esplosione di pura freschezza Vernel il profumo di cui innamorarsi L.O.L. Surprise Mermaid Dogs cosa troverai? chi vuole creare una sirena? tutti quanti versa ora agita ecco le pozioni scintillanti da sirena inserisci la tua L.O.L. e crea la tua coda da sirena L.O.L. Surprise Mermaid Dogs scopri anche le Mermaid Twins quando il sole tramonta è il momento è il momento Drak, Katia, Franchi e i loro amici si trasformano in Super Monsters il sole scompare il monstro appare e scatenano tutta la loro magia e i loro incantesimi per vivere avventure da urlo siete pronti Super Monsters? sì tornano i Super Monsters da martedì a venerdì alle 7.20 di sera su Frisbee, canale 44 sirena fai Grazie a tutti!